Oggi siamo qui a questo convegno, a questa settimana della bioedilizia e bioarchitettura, un momento di approfondimento importante. Questa mattina abbiamo parlato in particolare della funzione del verde verticale e orizzontale, quindi dagli alberi agli elementi naturali come la permeabilità dei suoli, quindi cespugli, il verde, il prato, così come anche di tutti gli altri elementi naturali come i torrenti, i fiumi, gli elementi naturali come elemento strategico per creare una città sempre più sostenibile, sostenibile sia dal punto di vista ambientale ma anche sociale e economico. Il verde come elemento di qualità, elemento anche di sviluppo di nuove forme di economia che pongono al centro la valorizzazione del territorio. Il verde anche come elemento su cui occorre riflettere nel momento in cui si passa la scala edilizia, cioè a intervenire sul singolo lotto, sul singolo edificio, perché non c'è solo un problema di riqualificazione energetica, di riqualificazione sismica e di accessibilità agli edifici, ma c'è anche come questa riqualificazione concorre a costruire una città sana, quindi i lotti che mantengono una permeabilità dei suoli, quindi con l'individazione di una quota di area privata che resta permeabile o che torna ad essere permeabile per concorrere insieme agli altri elementi più di carattere pubblico a una città più resiliente e quindi capace di resistere e reagire in modo più proattivo rispetto anche ai cambiamenti climatici, a ridurre l'effetto isola di calore e quindi ad avere una città più sana.